Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, ci siamo, siamo tornati allo stadio, siamo tornati a San Siro, guardate chi c'è qua con me Ha segnato il parma! Mancano ancora dieci minuti, mancano ancora dieci minuti, guardate chi vi ho portato, quant'è che non venivi, quant'è che non venivi Mamma mia, un anno che non venivo l'ho portato, mamma mia, live action internet ragazzi che bello, siamo tornati Quanto mi era mancato tutto questo, mamma che bello, dentro con la partita mi raccomando, cercando di vincere Cercando di vincere perché siamo partiti un po' male col pareggio a Genova, però comunque nel video del giorno dopo l'ho detto che una versazione mi era graciosa Interlegge, dentro con la partita, che bello, siamo tornati a San Siro Interlegge, dentro con la partita, che bello, siamo tornati a San Siro Interlegge, dentro con la partita, che bello, siamo tornati a San Siro Interlegge, dentro con la partita, che bello, siamo tornati a San Siro Interlegge, dentro con la partita, che bello, siamo tornati a San Siro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti